Marco Alberizi, country manager Martini Rossi. Quanto conta il mondo del racing per Martini? È un sodalizio che viene da una passione di famiglia. Sono 49 anni che siamo legati al mondo del racing. Nasce a Nockenheim nel 68, abbiamo avuto esperienze nel mondo del rally, 11 campionati nel mondo con la Lancia Delta Integrale, Le Mans con la Porsche, la Formula 1 con Lotus, Ferrari, Brabham e adesso con la Williams Martini Racing. È un sodalizio duraturo e destinato a permanere perché non c'è uno sport più glamour della Formula 1 e non c'è un aperitivo più glamour del Martini. Si corre tanto verso anche un compleanno speciale il prossimo anno. Sì, è 49 anni che lo aspettiamo, siamo pronti a celebrare il cinquantesimo. La nostra promessa è prima di tutto portare la storia di Martini Racing ai nostri consumatori, ma anche utilizzare la storia per costruire il futuro di Martini Racing. Abbiamo ancora un sodalizio confermato per l'anno prossimo con la Williams, con Williams Martini Racing, ma sarà solo una delle pagine di un libro un po' più complesso e che sono sicuro che troverà anche la sua massima espressione in Italia con qualcosa di importante l'anno prossimo. A parte il fatto che già in questi giorni siamo qua in Terrazza Martini in Darsana a Milano per quattro giorni per festeggiare insieme il Gran Premio di Monza. A livello di visibilità la Formula 1 è il top? Dipende sempre come si interpreta. Ci deve essere un connubio veramente sentito. A noi non interessa farci vedere, a noi interessa farci sentire dai consumatori che è una cosa diversa. Noi siamo in Formula 1 perché da sempre siamo in Formula 1, crediamo che le strisce rosse, azzurre e blu abbiano dato comunque glamour e lifestyle a questi sport così come noi ne prendiamo l'energia, la velocità e il dinamismo. Questa sera avete presentato anche dei prodotti nuovi. Cosa vede in Pool Position? Questa per noi è una serata speciale perché è la serata del lancio del nuovo Martini riserva speciale bitter. È la quintessenza del bitter italiano basato su un'antica ricetta del 1872 tramandata un po' segretamente dai nostri master blender di generazione in generazione, rivisitata ed è un qualcosa di speciale perché si avvicina all'anniversario del Negroni l'anno prossimo. Noi l'anno scorso abbiamo lanciato i Vermouth Martini riserva speciale Rubino Ambrato che sono oggi nella banca del vino, giusto per dirne la nobiltà e quindi con questi due ingredienti uniti al nostro gin Bombay Sapphire abbiamo la quintessenza del Negroni da presentare ai nostri consumatori e questo è il nostro Hero Drink insieme al Martini e Tonic è quello che rinfresca le nostre stati.